Ehi la ragazzi, come state? Sono sempre io, Teo, non sono morto, non sono scomparso, sono tornato, come vedete, in ottima forma. Beh, innanzitutto oggi è il primo gennaio 2015, quindi vi faccio i grandi auguri di Capodanno, speriamo sia un anno pieno di novità, sorprese e soddisfazioni per tutti. Io personalmente spero che sia un anno di svolta per il canale, un anno in cui anche una svolta personale, cioè proprio, non so ragazzi, cominciamo, che già mi sto infattinando perché, come vedete, sono molto emozionato perché stare dopo due mesi così davanti all'inquadratura, così è un po' difficile. E poi ci provo, dai, facciamo tutto in diretta live, così riusciamo a seguire tutto bene il discorso ed è più fluido, secondo me, senza tagli. Allora, perché me ne sono andato e perché? Allora, innanzitutto perché... perché? non lo so neanche io. Cioè, lo so, però. Allora, vediamo un po'. Me ne sono andato circa un mese e mezzo, due mesi fa, nel video speciale 50 iscritti, che quel video lì me lo sono riguardato dieci volte perché veramente secondo me è un bel video anche, divertente. Ma spero di fare video ancora migliori e che vi faccio divertire sempre di più. Ah, perché me ne sono andato? Allora, me ne sono andato perché? Perché non avevo più voglia, si può dire così. Cioè, io non sto lì a raccontarvi palle, mi è morto il gatto, il mio computer si è rotto per due mesi e purtroppo non ho potuto, come molti si inventano certe scuse. Io sono sincero, non ho avuto più voglia e mi è proprio mancata la voglia di continuare, non credevo più. So che magari vi ho deluso, che non ve l'aspettavate da me, però veramente io non avevo più stimoli per andare avanti. Però stanotte mi sono guardato allo specchio e ho detto, Matte, ma cosa stai facendo? Cioè, non vi rispondevo i messaggi, non ho niente, ho cancellato persino la carriera con l'Everton ragazzi, non, non, veramente, mi uccido. No, non, no, cioè non ho proprio, ho sbagliato tutto e veramente mi pento perché veramente mi dispiace di aver deluso 60 persone, però spero che d'ora in avanti fate finita che questo sia il primo video del mio nuovo canale, perché adesso non vi lascio più e veramente staremo insieme tutto l'anno, tutti gli anni, per sempre, perché veramente adesso inizia veramente una vera storia, in cui il nuovo Theo, versione 2.0, versione 2015, riuscirà a divertirvi, speriamo, divertirvi, farvi emozionare in ogni mio video, rifaremo la carriera, che ce ne frega, giocatore, allenatore, proviamo anche put, magari, poi cosa che facciamo? Ah sì, facciamo sempre le partite con gli iscritti, però mi raccomando, io sono stato un piccio, quindi ho cancellato l'account vecchio FIFA Gamer, quindi ho proprio sbagliato tutto, 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 mi sono creato un nuovo profilo, chiamato E, normale E, piccola, poi trattino basso, steed, con la S grande e la D grande con la Y, vabbè, non me lo scrivo, poi, perché lì comunque è l'account nuovo, in cui gioco anche GTA, se ce l'avete, o FIFA 15, ci facciamo le partitozze, e niente, detto questo, veramente, magari faccio anche qualche video di GTA, se vi interessa, comunque, comunque, sempre FIFA, io so, non sono cambiato, niente, scegliamo la squadra, quindi, se vi va, non so, italiana, estera, riproviamo, perché riparla con Leverton, anche se stava venendo anche bene, però, boh, che faccio? Boh, altro da dirvi, non lo so, io veramente spero di non deludervi più a questo punto, non vi chiedo neanche di scrivervi, di mettere mi piace, perché non mi merito assolutamente nulla, e lo capisco, ma adesso, vabbè, mi vedete un po' felice, perché, non dovrei essere, dovrò, perché, boh, sono, sono, non vedo l'ora di ricominciare, ecco, e, boh, e, niente, un abbraccio, ragazzi, spero che, che, non so più cosa dire, ragazzi, buon anno, e, sono ritornato, e questa è la cosa che conta, ciao ragazzi, e ci vediamo al prossimo video, eh?